Ciao a tutti ragazzi qui è Teddy e benvenuti ad un nuovo video e chiedo scusa se non sono usciti i video su Bridges e su tutte le trade che sono avvenute in questo draft uscirà domenica un video riassuntivo con la spiegazione di tutte le trade a livello salariale a livello di pick e quant'altro dobbiamo parlare però di ovviamente la notizia che sta tenendo banco nel mondo NBA è l'unica notizia di riferimento perché di Risa Shea la 1 e Alexar la 2 non gliene frega un cazzo nessuno apparentemente ed ovviamente la pick numero 55 de los angeles lakers che è stata Bronny James il figlio di Lebron James e su instagram o anche su twitter ho discusso e ho postato il perché questa scelta sia deleteria per i los angeles lakers e vorrei spiegare meglio perché reputo che questa scelta sia deleteria dato che secondo me in molti non hanno capito il motivo principale per cui io critico questa mossa la maggior parte delle critiche che vengono mosse a chi critica come me la pick di Bronny è il nepotismo anche Woj ha parlato ovviamente da buon succhiacazzi qual è perché è un succhiacazzi perché per avere tutte quelle informazioni prima di tutti devi succhiare tanti cazzi e purtroppo questa è la realtà dei fatti quindi Woj con la più grande gola profonda della storia a Lebron ha detto che il nepotismo in NBA è sempre esistito e che non vuole sentir parlare che Bronny sia stato appunto scelto per nepotismo e questa è la critica più lontana che io pongo a questa scelta dei lakers io non giudico il nepotismo perché nepotismo è quando una persona non qualificata viene messa in una posizione preferenziale perché ha dei legami parentali con una persona importante quello è il nepotismo però la parola chiave di nepotismo è una persona non qualificata Bronny dobbiamo ancora vederlo su un campo da basket nonostante abbia avuto una stagione collegiale IOSI oscena tipo 4 punti di media però è anche vero che rientrava da un infarto che per un ragazzo di 17 anni non è così semplice recuperare ok cioè nel senso comunque è un infarto va bene quindi ha le sue attenuanti Bronny per aver giocato una stagione sotto tono perché comunque è stato fermo tanto tempo per colpa dell'infarto che ha avuto e che lo ha quasi seccato parliamoci chiaro quindi non critico tanto la posizione del nepotismo perché ancora Bronny dobbiamo vederlo in campo e solo il tempo ci dirà se è stato scelto appunto per nepotismo oppure se effettivamente ha qualcosa da dire su un campo di pallacanestro NBA la cosa che io critico maggiormente e che secondo me in molti non vedono ed è secondo me il punto centrale di questa scelta è tutto quello che gira attorno a Bronny James e alla sua scelta nei Los Angeles Lakers non è Bronny James giocatore non è Bronny James persona non è Bronny James individuo non è Bronny il problema non è il nepotismo il problema il problema è tutto quello che circonda la pic di Bronny ovvero partiamo dalla cosa più semplice i media come vedete adesso i media stanno bombardando ogni singolo minuto con un post di Bronny James che sia i media americani che sia Dunkest la giornata tipo Sky insomma tutte le pagine anche social che potete pensare ci stanno bombardando con Bronny James perché? Perché è l'argomento scottante e ovviamente fa che cosa? engagement, fa click, views, like, commenti, algoritmi che volano algoritmi che ci portano nell'iperspazio e va benissimo ok ma a livello mediatico proprio di Lakers la pic di Bronny va a scaturire tutta una serie di considerazioni che adesso al 28 di giugno noi non facciamo ma più avanti dovremmo fare ovvero partiamo da quella più semplice quanti minuti giocherà Bronny ai Lakers? perché un ragazzo su Twitter mi ha detto sì vabbè ma mica giocherà 30 minuti infatti io non credo giocherà 30 minuti però giocherà una picca al secondo giro 55 che quasi mai vede il campo in NBA raramente una picca al secondo giro vede più di 10-15 minuti il campo ma forse anche più di 5 minuti ma forse anche più di 2 minuti Bronny secondo me il campo lo vedrà almeno 10-15 minuti in molti leggo che dicono vabbè ma Bronny andrà in G League allora secondo voi i Lakers scelgono il figlio di LeBron James e lo mandano in G League dalla prima partita in regular season? io la vedo molto ma molto ma molto molto difficile che i Lakers dopo aver letteralmente svenduto la panchina e la pic 55 per convincere LeBron a rimanere e adesso arriverò anche perché secondo me è una colossale puttanata perché LeBron non sarebbe mai andato da nessun'altra parte e magari mi sbaglio domani firma l'accordo con Philadelphia al massimo salariale non lo so però vi spiego perché secondo me è una palla clamorosa che i Lakers abbiano fatto tutto questo per tenere LeBron perché LeBron non sarebbe comunque andato via da Los Angeles a prescindere però quindi cioè secondo voi davvero Bronny finirà in G League ma io la vedo veramente difficile la vedo veramente complicata e onestamente anche se finisse in G League subito prima o poi verrà chiamato in prima squadra chiamiamola così perché io non credo proprio che LeBron accetti il fatto che il figlio venga mandato in G League e che non giochi nemmeno una partita con appunto i Los Angeles Lakers e con lui quindi con LeBron ma proprio non ce lo vedo neanche se accade veramente quindi secondo me Bronny avrà dei minuti ai Los Angeles Lakers anche perché Reddick tutto sommato ce l'ha messo LeBron la franchigia come dicevo nel video di Reddick si è svenduta una franchigia debole una dirigenza imbarazzante una dirigenza senza palle senza cuore e senza rispetto per la storia della franchigia dei Lakers però finché hai LeBron in squadra e vuoi puntare al titolo e adesso arrivo anche ai prossimi motivi per i quali io critico questa scelta puoi anche chiudere un occhio e accontentar LeBron perché tanto finché c'è lui puoi puntare al titolo parlando di puntare al titolo quindi facciamo finta che Bronny gioca 10-15 minuti perché ovviamente c'è che fai lo scegli per accontentare suo papà e poi lo spedisci in G League o lo panchini in eterno 0 minuti a partita ma anche a livello mediatico vi immaginate a livello mediatico poi cosa direbbero i media se Bronny venisse spedito in G League o se giocasse 0 minuti a partita ma vi immaginate quanta ritorsione mediatica riceverebbero i Lakers per una cosa del genere ecco hanno scelto Bronny per farlo giocare col padre e poi non lo fanno nemmeno giocare un minuto lo spediscono in G League allora perché cazzo l'hanno scelto dicendo il contrario di quello che hanno detto fino adesso i media ovviamente sì nel senso i media fanno così no un giorno dicono A il giorno dopo dicono B che è l'esatto opposto di A però pazienza e quindi alla fine avresti anche questa ondata mediatica di delusione perché tutti vogliamo vedere Bronny e Lebron in campo contemporaneamente se no che cazzo cioè nel senso l'hype è quello vedere padre e figlio in campo contemporaneamente quindi Bronny dovrà giocare Bronny dovrà avere i suoi minuti giusto? ecco allora dovrà giocare non verrà mai piantato in G League ma non ce lo vedo proprio che Bronny finisca in G League quindi facciamo finta che gioca 15 minuti facciamo finta che gioca una partita impietosa gioca 5 minuti impietosi e Reddick lo deve togliere secondo voi a chi deve chiedere Reddick per togliere Bronny? ah cazzo Reddick è il head coach dei Lakers scusate mi ero un attimo dimenticato pensavo fosse un'altra un'altra persona un giocatore insomma che fa l'allenatore giocatore ecco secondo voi davvero cioè come 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 viene gestito Bronny all'interno dello spogliatoio Lakers cioè se Bronny fa una minchiata in campo e a Cimura gli dice che cazzo fai cosa succede? Lebron sta zitto e dice ha ragione a Cimura oppure prende per il collo a Cimura e gli dice non permetterti mai più di dire una cosa del genere a mio figlio cioè sono tutte queste cose che di cui non si discute ed è secondo me la cosa più grave perché sono queste le cose che importano davvero non tanto il nepotismo ma che cazzo me ne frega del nepotismo il nepotismo c'è sempre stato in NBA tipo Doc Rivers Austin Rivers ok va bene ma chi se ne frega quello ci sarà e ci sarà sempre ma padre e figlio nella stessa squadra come giocatori non li abbiamo mai avuti certo abbiamo avuto Doc Rivers come allenatore e Austin Rivers figlio che giocava e va bene ma quello è un altro discorso anche perché Lebron è il giocatore mediaticamente più chiacchierato della storia nel bene e nel male è completamente diverso due padre e figlio che giocano nella stessa squadra soprattutto se tuo padre è Lebron James e molti mi hanno fatto l'esempio dei fratelli di Antetokounmpo ma non è la stessa cosa Tanasis e quell'altro l'altro fratello di Antetokounmpo ma chi se li incula ma chi se ne frega di quelli lì cioè non è minimamente la stessa cosa ma assolutamente o meglio è la stessa cosa a livello di franchigia che si piega a 90 per accontentare la propria superstar e va bene quello c'è sempre stato ma a livello proprio mediatico non è la stessa roba perché due fratelli non è la stessa cosa di padre e figlio soprattutto ripeto se tuo padre è Lebron James un giocatore che nella sua stagione numero 20-21 quella che è stata l'anno scorso ha tenuto medie almeno in regular season da giocatore nel suo prime e secondo me una cosa che in molti non capiscono del mio punto di vista è che io reputo ancora oggi Lebron James un giocatore che ti porta al titolo con il roster giusto ma soprattutto un allenatore serio che faccia giocare a pallacanestro finalmente i Los Angeles Lakers dopo gli ultimi 4-5 anni di isolamenti vari e postalti per Davis a cazzo di cane quindi io reputo Lebron James in qualsiasi squadra vada beh non in qualsiasi squadra non esageriamo però in una squadra già attrezzata come potrebbero essere i Lakers con un eventuale trade di Di Angelo e un leggero spazio salariale disponibile potrebbero essere una contenda a Ovest soprattutto perché ai Suns tutti stanno declinando la player option quindi i Suns potrebbero essere molto diversi rispetto all'anno scorso e potrebbe essere pure un bene per i Suns vista la stagione dell'anno scorso o potrebbe essere un male perché magari non riescono a prendere giocatori diciamo discreti come l'anno scorso da mettere in panchina e il roster potrebbe essere peggiore dell'anno scorso Denver ha perso KCP perché KCP è uscito dalla player option e ci saranno squadre che lo riempiranno di soldi cosa che Denver può fare ma marginalmente veramente marginalmente è difficile che KCP adesso rimanga a Denver considerando che ci sono franchigie che possono offrirgli addirittura quasi 30 milioni all'anno e potrei anche vedere un uno più uno di KCP a 30 milioni come ha fatto Bruce Brown l'anno scorso con 22 milioni che gli ha dato che gli han dato i i Pacers però ecco a parte questo quindi Denver ha perso probabilmente un altro pezzo importante i Clippers sono schiavi della scelta di Paul George Paul George fa opt-in e viene tradato testa la free agency e se ne va gratis riescono a fare sign in trade in qualche modo e cosa raccolgono per Paul George Kawai sarà sano Arden che fa Arden è ancora free agent Arden e Westbrook sono free agent e non hanno ancora firmato ovviamente aspettano Paul George se Paul George rimane ai Clippers probabilmente Arden e Westbrook ritornano ai Clippers se Paul George va via non credo che Arden rimanga rimanga ai Clippers perché Leonard purtroppo non ha la salute per poter garantire una run playoff l'abbiamo visto negli ultimi 5 anni praticamente da quando i Clippers non gioca i playoff sostanzialmente Minnesota è vero ha fatto lo scambio Rob Dillingham e ne parleremo poi nel video di domenica però onestamente Minnesota è tutta da scoprire perché io non credo che Minnesota rifarà la stagione dell'anno scorso poi magari mi sbaglio o meglio della stagione appena passata ecco per me Minnesota non è una certezza assolutamente ha fatto la stagione della vita secondo me ma è ancora lunga però magari si ripetono Dallas ha appena mandato Team Ardaway Junior a Detroit per prendere Quentin Grimes che è un ottimo upgrade rispetto a quel cesso di Team Ardaway e ha lo spazio salariale per poter rifirmare Derek Jones Junior che è una priorità di Nico Harrison Dallas sicuramente è una squadra competitiva Oklahoma City è una squadra sicuramente competitiva però a Ovest ad oggi onestamente i Lakers non sono così lontani dall'essere al top certo se dovessero riprendere Denver in quel caso perdiamo perché la Caba la vuole che perdiamo contro Denver però per il resto secondo me i Lakers se la giocano con tutti onestamente bisogna fare però una free agency accurata e tra l'altro qualcuno mi ha chiesto ma quanto è buono questo Dalton Knecht la scelta numero 17 che hanno hanno fatto i Lakers beh io vi rispondo dovete chiederlo alla squadra che avrà Dalton Knecht a roster alla prima palla 2 della stagione perché io onestamente non vedo Dalton Knecht ai Lakers iniziare la stagione perché verrà tradato insieme a qualcuno per arrivare ad una terza superstar perché ve lo dico perché Lebron e Anthony Davis hanno già detto che vogliono una terza superstar e per far arrivare una terza superstar devi tradare tutta la squadra perché non abbiamo asset appetitosi non abbiamo non abbiamo pick importanti se non nel 2031 nel 29 però quelle sono abbiamo Acimura Reeves Di Angelo Vanderbilt però come potete ben immaginare non parliamo di Michael Bridges o giocatori del genere quindi il valore è basso devi aggregarli tutti anche per questioni salariali e Nect ovviamente è un giocatore che ha delle squadre che magari vogliono ricostruire potrebbe far comodo è una scelta 17 che tanti come ha detto Pelinka proiettavano addirittura in top 10 ma è uscito dalla top 10 molto probabilmente per questioni anagrafiche perché ha già 23 anni quindi è già un giocatore un pochino più NBA ready di altri magari ci sono franchigie che hanno più bisogno di Dalton Nect rispetto ad una squadra che vuole vincere il titolo come Los Angeles Lakers e sottolineo vincere il titolo perché JJ Merdick che anche lui è entrato nella come dire nella cerchia delle merde ovviamente per diritto acquisito ha detto alla presentazione come coach di Los Angeles Lakers che i Lakers vogliono vincere il titolo il suo obiettivo è portare ai Lakers un titolo perfetto allora torniamo al discorso di prima che facevo su Bronny James ovvero quindi Bronny giocherà siamo d'accordo ma a livello di spogliatoio come lo vedranno i vari Hachimura Reeves insomma Vanderbilt questi giocatori che ovviamente non sono Lebron e non sono Anthony Davis perché Rich Paul è anche l'agente di Anthony Davis quindi chi non è di Clutch Sports in sostanza come potrà vedere Bronny che gioca e come come verrà allenato cioè verrà trattato allo stesso modo oppure verrà trattato coi guanti coi guanti bianchi perché Deddy si incazza se qualcuno gli dice qualcosa o solo Deddy lo può sgridare e lo può formare cestisticamente cioè queste sono tutte domande che vabbè qualcuno potrebbe dire vabbè ma gli sportivi professionisti sono professionisti dovrebbero avere una certa condotta quindi se Hachimura deve mandare affanculo Bronny perché non taglia su una chiara situazione di taglio lo deve mandare affanculo e le Bronny deve stare zitto anzi deve dar ragione Hachimura e però come capite bene non è sempre così facile soprattutto perché il rapporto padre figlio è diverso rispetto al rapporto tra compagni di squadra normali o tra fratelli pure per da questo punto di vista tornando sempre al discorso dei buoni ha detto compo brothers o dei Lopez brothers o quello o quello che volete insomma quindi ecco c'è tutta questa situazione questa questa atmosfera intorno anche proprio a livello di spogliatoio che nessuno sta discutendo ed è una cosa che mi lascia un po' spiazzato perché dico ma diamine ma è il campo che deve parlare giusto e perché nessuno parla di tutte queste difficoltà secondo me che potrebbero apparire a livello di spogliatoio in una squadra che già soffre di problemi di spogliatoio perché non prendiamoci in giro prendete gli ultimi 3-4 anni dei Lakers da dopo la bolla ditemi un anno dove i Lakers non sono implosi dove non hanno avuto problemi di spogliatoio dove Lebron si girava dall'altra parte e non guardava neanche il coach dove Di Angelo tutto quest'anno se ne stava in fondo la panchina e manco ascoltava i time out ditemi un anno dei Lakers da quando è arrivato Lebron James che non abbia avuto un singolo problema di spogliatoio adesso arriva pure il figlio secondo voi non ci potrebbero essere ulteriori problemi di spogliatoio soprattutto per i motivi che ho detto prima e ripeto la vedo difficile che Bronny non giochi manco un minuto e che venga spedito in G League Bronny giocherà perché a livello mediatico fa scalpore fa rumore mediatico fa views fa tutto quello che volete a livello mediatico a livello di click a livello di engagement che è quello che vuole sia la NBA ma anche Los Angeles Lakers discutevo su Twitter con il buon il tore dei Big Free e lui mi ha mi ha detto non per criticare però per dire anche quale potrebbe essere un eventuale pensiero della dirigenza ovvero vabbè ma noi rifirmiamo Lebron James a un triennale al super massimo salariale quindi a 160 milioni per tre anni quindi 50 passa milioni all'anno con un 2 più 1 sostanzialmente quello che aveva l'ultimo contratto che ha firmato era un 2 più 1 e facciamo una sorta di farewell tour con lui e Bronny che giocano per tre anni insieme poi quando Lebron si ritira sfanculiamo Bronny ora io se fossi tifoso Lakers anzi sono tifoso Lakers però onestamente dopo la la scelta di Bronny faccio fatica a ritrovarmi in questa franchigia se dovesse finire così veramente cioè Lebron viene esteso per il super massimo salariale per i prossimi tre anni e letteralmente i prossimi tre anni diventano un farewell tour tipo quello di Kobe quindi senza anelli senza giocarsi il titolo senza aver la possibilità di giocarsi il titolo proprio dall'inizio della stagione semplicemente per accontentare Lebron e farlo diventare il primo giocatore della storia della pallacanestro americana a giocare col proprio figlio cioè capite bene che è letteralmente terrorismo non è neanche più tenere per le palle una franchigia o farsi sottomettere cioè i Lakers sarebbero sodomizzati da ogni punto di vista e Lebron e Rich Paul sarebbero dei terroristi onestamente a pensare una cosa del genere no? e ovviamente anche la franchigia ma la franchigia è fatta da persone con diciamo grossi disturbi della personalità persone che si fanno volentieri dominare da Rich Paul da Clutch Sports e quindi onestamente non mi stupirei neanche andasse a finire così cioè letteralmente con tre anni di farewell tour con Bronny e poi addirittura ci sarebbe anche Bryce James che è l'altro fratello l'altro figlio che dicono sia molto più forte del fratello quindi facciamo diventare una succursale James i Lakers perché addirittura si parla di un'eventualità simile con i tre amigos col papà e i due figli che giocano ai Lakers insieme poi Lebron si avvia nel tramonto ritirandosi e i due James rimangono sulla fava dei Lakers a contratto per gli anni che saranno e poi vengono sfanculati entrambi perché vabbè tanto la nostra pubblicità mediatica l'abbiamo già fatta quindi vaffanculo tutte e due ecco questi sono scenari apocalittici per una franchigia NBA ma neanche per una franchigia NBA proprio per un'azienda perché le franchigie NBA sono aziende sono sono aziende che fatturano soldi ci sono dei general manager che sono letteralmente i CEO proprio i chief executive operations e quindi nel senso sono sono aziende e qualsiasi azienda che voi possiate pensare a partire da un'azienda sportiva come possono essere le franchigie NBA ad un'azienda quella vicino a casa vostra immaginate un'azienda vicino a casa vostra che viene gestita in questo modo fallisce dopo tre giorni giusto? fallisce dopo tre giorni ecco i Lakers e quattro anni che falliscono ad esempio però tornando al discorso precedente di Bronny e di tutto quello che comporta la situazione di averlo scelto quindi ecco come capite la mia critica non è tanto verso il fatto che i Lakers abbiano scelto Bronny la mia critica è che i Lakers abbiano scelto Bronny portandosi dietro tutte queste pressioni mediatiche e di spogliatoio soprattutto e sottolineo soprattutto se l'obiettivo della tua franchigia è vincere il titolo se tu vuoi vincere il titolo devi toglierti la maggior parte delle pressioni di dosso ok? non devi aumentare le pressioni sia mediatiche che di spogliatoio devi cercare di diminuirle il più possibile ok? quindi quanti dei giocatori a roster dell'os angeles lakers vedranno Bronny come un raccomandato che gioca 10 minuti a partita 15 minuti a partita rubando minuti a loro e ripeto io parto dalla la cognizione che Bronny giocherà almeno 10-15 minuti non di più poi se il ragazzo fa vedere delle cose eccezionali io non ho problemi se Bronny diventa titolare attenzione una cosa magari che ho detto troppo tardi nel video ma vorrei che fosse chiara se Bronny ha meriti sportivi ben venga ma che diventi pure titolare ma che tiri pure 30 volte a partita cioè se Bronny dimostra dei meriti sportivi ha voglia ma ben venga e va benissimo così anzi se Bronny ha meriti sportivi cadono tutte le preoccupazioni che io sto mettendo sto portando a voi in questo momento ovviamente io mi baso su che cosa mi baso su un ragazzo giovane che ha giocato una stagione al college molto sottotono ma veramente molto sottotono è una quartia molto sottodimensionata credo sia poco meno di 1,90 1,89 credo sia Bronny e per la NBA di oggi essere sottodimensionati non è un vantaggio ma soprattutto parlo anche di un giocatore che è stato fermo molto tempo per un infarto e sostenere ritmi NBA non è facile soprattutto se sei stato fermo per tanto tempo prima ma se Bronny mi esce dalla panchina e mi diventa un potenziale six man of the year ma che giochi pure titolare sono contentissimo per il ragazzo perché il mio grande la mia grande delusione per questa situazione è proprio per Bronny perché il ragazzo adesso verrà messo sotto delle luci che non possono fare altro che rovinarlo potenzialmente questo povero ragazzo cioè la pressione già di giocare col padre che è l'uomo più chiacchierato a livello sportivo d'America dopo Mahomes probabilmente ma ancora più di Mahomes mettiamolo diciamola tutta cioè con tutta la pressione che questo avrà addosso ogni volta che metterà piedi in campo che dovrà subito dimostrare non potrà sbagliare non potrà fallire alla prima partita che sta che stecca subito ci saranno fiumi di hater eccolo il raccomandato è quello che manco in NBA dove va a stare va a giocare in Congo cioè e tutte queste cose qui il grande sconfitto di questa pick è proprio Bronny perché se Bronny non rispetta almeno dei canoni medi a livello dell'NBA e per forma tipo Tanasis Antetokounmpo sto ragazzo è bruciato poverino ed è stato bruciato per proprio per l'ego e per la sudditanza psicologica di una franchigia e di suo padre quindi a me in tutta questa storia dispiace più per il ragazzo perché se non performa come dovrebbe performare anche se le persone ovviamente da una parte non c'è molta attesa perché è una pick 55 ma dall'altra parte il figlio di Lebron è normale che le persone si aspettino che il figlio di Lebron sia quantomeno presentabile in un campo da basket no ecco quindi la prima parita che stecca sto povero ragazzo lo segano tutti ma proprio tutti lo bombardi lanciano un sacco di merda ma quanta merda riceverà sto ragazzo io non voglio neanche pensarci a questo povero ragazzo quanta merda riceverà la prima parita che stecca per colpa del padre e di una franchigia che oramai è lontana parente di una franchigia gloriosa quali sono i Los Angeles Lakers quindi tornando però al discorso di prima quindi ecco se il tuo obiettivo è vincere il titolo non devi portarti delle grane così immense nello spogliatoio e Lebron dovrebbe saperlo bene perché le ha avute tutta la vita ste grane nello spogliatoio sin dai tempi dei primi Cavs poi è andato con Wade Bosch voleva far licenziare Spolstra dopo 20 partite voleva far saltare Spolstra al primo anno di NBA poi ha vinto due titoli e la gente ha detto che eh però così è facile vincere siamo tutti capaci poi nel 2014 perde contro gli Spurs perché eh ma i Miami sono vecchi Wade è un cattorcio Bosch è una merda ok e allora torna Cleveland torna Cleveland perché vincere il titolo Cleveland significherebbe redeemersi dall'addio bla 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 allora cosa fa fa tradare subito Wiggins scelta la numero 1 quell'anno per arrivare a Kevin Love poi fa tradare Waiters letteralmente pochi mesi dopo eh perde le finale del 2015 contro i Warriors perché eh Irving si fa male Love viene praticamente gli si spacca una spalla perché a Olini che gli fa un armbar da da UFC l'anno dopo il miracolo 2016 ma anche lì c'erano state eh molte controversie soprattutto col fatto di David Blatt che venne licenziato nonostante i Cavs fossero comunque ben sopra il 50% di vittorie poi 2017 fa tradare tutta la squadra e nel 2018 c'è Lebronto però perde di nuovo e allora vai Lakers e fa tradare subito tutti i giovani e poi fa licenziare Walton cioè allora lui che ha sempre avuto la ogni tipo di pressione mediatica e di spogliatoio addosso dovrebbe essere il primo a dire ok dobbiamo limitare questo tipo di pressione soprattutto perché siamo i Los Angeles Lakers giusto i Lakers sono insieme ai Celtics e ai Knicks le squadre più chiacchierate e i Warriors ultimamente le squadre più chiacchierate d'America non c'è giocatore che non scorreggi che subito Walsh tweeta Davis ha scorreggiato alle 19 34 che è l'orario in cui sto registrando questo video ok quindi è controproducente portarsi una grana mediatica così importante se il tuo obiettivo è vincere il titolo porca puttana e io sono convinto che questi Lakers ad oggi vedendo questo ovest poi magari tra una settimana dopo la free agency o comunque dopo la moratoria del 6 luglio quando i contratti potranno essere firmati e le trade potranno essere effettivamente confermate per la stagione successiva o magari Dallas mette su un big free della madonna i Warriors arrivano a Paul George e Denver fa una panchina della madonna e dico vabbè allora che cazzo vi devo dire è stato bello ma neanche quest'anno vinciamo giusto però ad oggi fatemi dire che ho delle speranze ancora soprattutto perché i Lakers hanno ancora Lebron James e ho visto quello che può dare Lebron ancora oggi però bisogna giocare una pallacanestro molto diversa rispetto a quella degli anni precedenti speriamo che il burattino Reddick convinca in qualche modo qualcuno a giocare in modo diverso ha già detto che ha parlato con Davis per farlo diventare un pochino più centro focale dell'attacco tipo Jokic ha ipotizzato qualcuno ma come Jokic nel senso di terminale offensivo a livello di assist di visione di gioco di aprire spazi usiamo questo termine calcistico per i propri compagni di squadra e non semplicemente vederlo in post alto giocare l'uno contro uno col proprio difensore e tirare un mattone dalla media come il suo solito fare recentemente ecco quindi chissà però serve un metodo di gioco diverso serve una una rivoluzione a livello tattico da parte dei Lakers e spero che Reddick la porti speriamo veramente speriamo però quindi ecco sono convinto che con Lebron James poi ancora oggi quanto paradossale può effettivamente sentirsi una cosa del genere cioè che a 41 anni tu reputi un giocatore ancora determinante per vincere il titolo non sei mai sentito nella storia NBA questo è un complimento che io faccio a Lebron e non è un una diminuzio anzi è proprio il contrario io sto dicendo che con Lebron ancora oggi puoi vincere un titolo sono convinto che ancora ancora oggi a 41 anni questo può vincere un titolo certo non da solo non stile 2018 carriando così però con un supporting cast migliore probabilmente leggermente migliore ma soprattutto una filosofia di gioco sia offensiva che difensiva migliore lui possa ancora fare tranquillamente la differenza lui ed è ovviamente Anthony Davis e ovviamente Anthony Davis quindi se il tuo obiettivo letteralmente detto dal tuo head coach alla sua presentazione è vincere il titolo ma non puoi portarti delle grane così grosse a livello mediatico in casa dovrebbe essere proprio il contrario quindi ecco poi altra piccola cosettina che a qualcuno potrebbe sfuggire come dicevo prima Davis e Lebron hanno già detto che vogliono una terza superstar se ne è discusso sono usciti molti rumor che tutte e due hanno dato il benestare per arrivare ad una terza superstar chi questa terza superstar non lo so Ray Young non credo si muova più Lavin minchia alla faccia della terza superstar Donovan Mitchell quindi il pacchetto ideale per Donovan Mitchell sarebbe Reeves Acimura Vanderbilt Nekt e due prime questo pattume pensate i Cavs quello che potrebbero ottenere per Donovan Mitchell soprattutto visti i playoff dello scorso anno e dovrebbe accettare i Cavs dovrebbero accettare questa offerta dei Lakers che è pattume marcio per quale motivo perché Lebron ovviamente è in credito cioè loro sono in credito con Lebron in debito con Lebron a vita perché nel 2016 ha vinto il titolo allora si beh se Lebron ci chiede Donovan Mitchell noi accettiamo il pattume pur di aiutarlo non credo che funzioni così anche se chissà perché Lebron può tutto onestamente Lebron può tutto e ok quindi terza superstar siccome i Lakers non hanno spazio salariale e per arrivare ad una terza superstar che abbia ovviamente un contratto da terza superstar devi per forza aggregare contratti giusto? come ho detto prima quindi devi aggregare almeno Reeves più Accimura sicuramente più Knect molto probabilmente anche Knect deve essere inserito nella trade perché comunque la squadra che dà via una superstar vorrebbe avere qualcosa in ritorno perché non tutte le trade sono così a cazzo di cane come qualcuno le pone anche anche il report stesso alcune volte vedo trade mock trade che uno dice ma che trade è ma perché dovrebbe mai accadere una cosa del genere perché quelli dovrebbero scambiare quello per assolutamente nulla totale quindi le trade non funzionano sempre così e cosa devi fare devi trade mezza squadra giusto? devi trade mezza squadra perché a livello salariale la NBA funziona così indovinate chi giocherebbe di più se venisse tradata mezza squadra quale giocatore ci guadagnerebbe con una terza superstar e una panchina molto accorciata ah sì proprio Bronny capito perché le Bron vuole la terza superstar la terza superstar la vuole non tanto per vincere quanto per aumentare il minutaggio di suo figlio secondo me e torniamo sempre al discorso di prima che secondo me Bronny non andrà subito in G League e magari mi sbaglio qualora dovesse accadere che io domani leggo che Bronny al 100% andrà in G League dal day one svengo probabilmente ma comunque secondo me poi verrà convertito in un two way deal sostanzialmente più avanti durante la stagione e verrà comunque fatto giocare appunto ai Lakers nella parte finale di stagione quando forse sarà un pochino più pronto sia a livello proprio di di fiato e e anche proprio a livello di impatto in campo perché comunque la G League è sostanzialmente una NBA propedeutica quindi ovviamente giocatori meno forti di quelli in NBA però comunque inizi già a giocare contro adulti contro gente che magari ha giocato anche in NBA nel senso si è fatta dei minuti in NBA è andata anche in roster importanti in NBA e poi è scesa in G League per varie eventuali però ecco io sono un po' esterrefatto che nessuno abbia parlato di questi problemi di spogliatoio e di questi problemi mediatici che la pick di Bronny porta ai Lakers e come ho già detto prima il nepotismo è il problema minore dei Los Angeles Lakers in questo momento dato che il nepotismo è sempre esistito esisterà sempre soprattutto in mafie come quelle sportive esisterà sempre e comunque non lo scopriamo certo oggi però come dire il il momento in cui accade e come accadono queste cose di nepotismo è quello che conta faccio un altro piccolo esempio Jalen Branson anche lui figlio d'arte anche qua nepotismo ma Branson è stato scelto la 33 dai Dallas Mavericks e poi è finito a New York cioè non è la stessa cosa anche perché Branson non se lo inculava nessuno cioè chi ha detto oddio Branson alla 33 still of the draft questo diventerà un giocatore da max contract nei prossimi 4 anni ma nessuno prevedeva che Branson diventasse un giocatore del genere e soprattutto nessuno ha detto ah beh sì Branson alla 33 perché è figlio d'arte ma a parte che ha vinto il titolo con Villanova quell'anno primo però secondo nessuno ha pensato che Branson fosse figlio di papà che fosse che fosse è stato scelto la 33 dai Mavericks perché era figlio di nessuno l'ha pensato perché infatti non è quello il motivo per cui è stato scelto la 33 alla 33 è stato scelto perché anche lui è una guardia sottodimensionata e per come si stava impostando l'NBA quando è stato scelto 4-5 anni fa non era quello dove l'NBA stava andando poi a Dallas ha fatto il fenomeno dalla panchina Dallas non ha pareggiato l'offerta e i Knicks hanno offerto di più ed è andato a New York ma non è andato a New York perché è figlio di o ha preso quei soldi perché è figlio di o ha giocato a Dallas perché è figlio di non credo proprio che qualcuno abbia mai pensato che Branson ci fosse nepotismo spudorato ecco cioè qui noi stiamo andando o meglio le persone diciamo nei commenti generali che ho letto ovviamente tutto oggi vanno a criticare uno spudorato nepotismo dove le persone guardano le medie di Bronny al college e dicono minchia ma questo qua non giocherebbe neanche in serie A2 e addirittura lo scelgono i Lakers che vogliono andare a vincere il titolo e questo qua dovrebbe pure giocare ecco le persone criticano un nepotismo spudorato così come è per Tanasis e l'altro Antetokounmpo brother cioè ripeto la situazione è la stessa però a livello di padre e figlio non è mai la stessa cosa rispetto ai fratelli niente sarà interessante vedere come si sviluppa allora questa stagione sarà interessante vedere cosa faranno i Lakers con Bronny se giocherà perché per me giocherà quanto giocherà che tipo di rotazioni Reddick darà se darà spazio a Bronny di poter giocare senza suo padre in campo oppure se il Dream Team verrà utilizzato sempre comunque con i due in campo quindi Bronny giocherà solo se c'è suo padre in campo cosa che secondo me lo rovinerebbe ancora di più e come ho detto prima il più inculato di tutti è proprio Bronny il più inculato di tutti è proprio Bronny che molti reputano che sia il ragazzo più fortunato di sempre perché è il figlio di Lebron quindi giustamente viene scelto per nepotismo in NBA si piglia un contratto NBA e vive di rendita a parte che vivere di rendita avrebbe già potuto vivere di rendita diciamo che Lebron di Soldini ne ha fatti a sufficienza per far campare forse le prossime 160 generazioni sue con una vita di lusso sfrenato però è proprio un ragazzo che secondo me verrà schiacciato da una pressione soverchiante e questa pressione verrà un attimo rimossa quando Lebron o cambierà squadra perché secondo me Lebron torna a Cleveland l'ultimo anno fa il ferro del tour a Cleveland oppure se oppure quando Lebron letteralmente si ritira se dovesse ritirarsi da Laker Bronny giocherà un pochino più spensierato una volta che Lebron non sarà più in campo però come giriamo la frittata secondo me il più fottuto in tutta questa situazione è proprio Bronny è proprio il giocatore è proprio il ragazzo niente fatemi sapere se siete d'accordo con i problemi che ho sollevato in questo nuovo lungo video se anche voi avete pensato che comunque non sia un problema di nepotismo ma sia tutto quello che viene generato dopo a livello mediatico a livello di spogliatoio a livello proprio di come i compagni di squadra lo tratteranno se saranno succubi perché hanno paura del padre di Lebron oppure se invece Lebron imposterà un clima un pochino più disteso con gli altri in modo che anche gli altri possano sicuramente Davis può parlare con Bronny può pigliarlo a schiaffi perché ovviamente Rich Paul però se lo fa Cimura secondo me Cimura è tradato proprio in Cina 5 minuti dopo per dire no quindi ecco bisogna vedere anche questo tipo e tutti i rumor che usciranno ovviamente a livello di spogliatoio con Woj che chissà cosa twitterà Shams Tim McMahon Ramona Shelbourne sono tutti insider dell'Akers chissà quanti casini eventualmente usciranno a livello di spogliatoio magari viene tradato Cimura e Woj dopo 5 minuti ah Cimura ho sentito che ha mandato affanculo Bronny e quindi i Lakers hanno detto che questo comportamento va contro la politica aziendale dei Lakers e quindi l'hanno tradato perché è andato contro i termini di servizio dei Los Angeles Lakers e questo comportamento non rappresenta la politica dei Lakers per dire no e tutte queste cose bellissime che ovviamente vengono dette solamente dopo che un giocatore viene sfanculato nei lidi più oscuri esce il rumor giustamente che aveva fatto casino non prima ma dopo ovviamente come sempre questo tipo di cose quindi fatemi sapere se siete d'accordo con quello che ho detto a livello dei veri problemi che porta la pick di Bronny non tanto ripeto Bronny come Bronny giocatore Bronny individuo Bronny persona ma la pick tutto quello che sta attorno tutto quello che circonda Bronny James a livello mediatico di spogliatoio o secondo voi sto magari overreactando sto sto creando problemi dove non ce ne sono insomma e Bronny verrà semplicemente parcheggiato in G League come un qualsiasi pick numero 55 al draft e i Lakers proseguiranno per la loro strada senza ricordarsi che Bronny è il figlio del giocatore più importante della loro franchigia e andranno avanti come se non ci fossero problemi e poi una volta che Bronny sarà pronto o sarà migliorato poi verrà tolto dalla G League e verrà portato in prima squadra chiamiamola così per performare poi su un parquet NBA ecco e fatemi sapere la vostra insomma anche se su Instagram e su Twitter già mi sono arrivate su X scusate non Twitter mi sono arrivate molte diciamo che il pensiero comune su entrambi i social è quello del nepotismo molti mi avete scritto è la peggior cosa che abbia mai letto è la peggior cosa che abbia mai visto tifosi Lakers con le maie nei capelli che appunto dicono che oramai siamo succubi di un di un'azienda che è Clash Sports di un'agenzia tifosi Lakers che sono come dire rassegnati ad una evidente carenza di dirigenza e di società invece ci sono altre persone che invece reputano comunque che bisogna aspettare il campo che prima di insomma criticare questa pick numero 55 dei Lakers bisogna attendere Bronny in campo bisogna vedere che tipo di giocatore è cosa può dare cosa non può dare che condivido però come ho detto prima per me non è quello il problema il problema è il fatto ad esempio se non gioca a livello mediatico come ho detto inizio video cioè immaginatevi se i Lakers mandano Bronny subito in G League il casino mediatico subito che scoppia conferenze stampa incentrate solo sul fatto ah ma perché avete mandato Bronny in G League ah ma perché LeBron come mai tuo figlio non gioca non gioca con te ma è stato spedito in G League cosa ne pensi ecco e tutte queste manfrine qui no ecco niente c'è c'è uno spartiacqua abbastanza importante verrebbe da dire a livello di pensiero io sono aperto a tutti i vostri pareri come sapete nel senso la ragione verrà data tra qualche mese quando vedremo lo sviluppo ma anche tra qualche anno probabilmente no vedremo effettivamente se questa scelta ha pagato i dividendi o meno ripeto soprattutto a livello mediatico tra qualche mese vedremo se i Lakers sapranno leggere l'impatto oppure no e cosa faranno con Bronny e le conseguenze mediatiche della decisione che prenderanno ovvero se spedirlo in G League o se farlo giocare subito 10-15 minuti a partita non di più perché non credo che giocherà più di 10-15 minuti nonostante le Bron però diciamo che comunque troveranno magari un punto d'incontro lo facciamo giocare però non più di 10-15 minuti ecco niente fatemi sapere questo è il primo e ultimo video che faccio sui Lakers però per quest'anno da tifoso sono molto amareggiato faccio una chiosa finale tanto oramai il video è lungo quindi vaffanculo io sono deluso ma non sono deluso perché è stato scelto Bronny come ho detto prima io sono deluso da una dirigenza da una da un management completamente succube ah e prima di chiudere non ho detto perché LeBron non sarebbe mai andato via dai Lakers perché obiettivamente dove altro può andare chi altro può offrire i soldi che possono offrire i Lakers nessuno perché i diritti borg ce n'erano solo i Lakers perché Los Angeles è una piazza troppo ben gradita a LeBron e ai suoi giri extra cestistici per poter abbandonare Los Angeles soprattutto adesso soprattutto con il draft del figlio soprattutto dopo che Rich Paul ha chiamato le altre franchigie e ha detto signori se scegliete Bronny questo va a giocare in Australia non si presenta cosa che Adamo dovrebbe alzare la cornetta chiamare Rich Paul e fargli un culo così ma non accadrà mai perché comunque ripeto sono click views engagement social e ad Adamo piace che ci sia engagement social insomma così poi possiamo fare le statistiche dicendo ah quest'anno l'NBA non ha mai avuto così tanto potere mediatico abbiamo avuto l'80% in più di visualizzazioni su X Twitter abbiamo avuto più reel che mai su Instagram più video che mai su TikTok ecco così poi Adamo può flexare questi numeri gonfiatissimi per flows ovviamente palesi del sistema soprattutto a livello mediatico di giornalismo scadente e clickbait palesemente clickbait ma diventando forse troppo polemico quindi onestamente io la vedo molto difficile che Lebron anche senza arrivare a Bronny anche senza draftarlo sarebbe andato da qualche altra parte a meno che Lebron di ripicca potesse dire eh no non avete preso Bronny io me ne vado allora in quel caso è un pezzente lui in quel caso è un comportamento da idiota e da perdente dire una cosa del genere non draftate mio figlio me ne vado perché me ne vado un professionista serio dovrebbe andare oltre queste cose però obiettivamente ha senso per Lebron andare in qualsiasi altra franchigia in questo momento della sua carriera considerando che è già nella città principale l'altra è New York ma New York non può dargli soldi che Lebron vuole perché hanno esteso a Nonobi hanno preso Bridges non hanno soldi da dare a Lebron a meno che Lebron non va al minimo salariale a Inks però siccome Lebron vuole essere pagato e i Lakers sono disposti a dargli un triennale da 160 milioni Lebron non sarebbe comunque mandato via da Los Angeles anche senza arrivare a Bronny e portarsi dietro tutto questo peso mediatico inutile incessante e continuo costante fa pure rima per tutta la stagione o fin quando Bronny rimarrà a roster o fin quando Lebron ovviamente rimarrà a roster ci sono veramente pochissime possibilità che Lebron potesse andare via adesso sono ovviamente quasi zero perché per effettivamente rendere effettivo il fatto che padre e figlio giochino nella stessa squadra in NBA Lebron deve rifirmare ok quindi adesso diventa praticamente quasi impossibile vedere Lebron lontano dai Lakers ma già anche prima era difficile dove va a Philadelphia che non ha una squadra lui in B del nulla assoluto e tutti i 37 anni al minimo salariale l'ha già fatto a Miami non ha funzionato dove va a Golden State che non che vuole offrire un quadriennale a Paul George però devono prima liberare Wiggins e devono risolvere la questione Clay e sicuramente devono fare anche un sign and trade per Paul George a questo punto però dovrebbero fare un sign and trade Paul George oppure Paul George fa opt-in vengono scambiati Wiggins più Cumming e Moody arriva Paul George poi estende l'anno prossimo o a fine dell'anno dove va Miami che vuole tradare Butler dove va c'è le squadre che possono effettivamente pagare Lebron i soldi che Lebron vuole sono San Antonio e Orlando secondo voi Lebron va a San Antonio a questo punto della sua carriera a giocare con Wemby e a farsi Narda Popovic senza vincere il titolo mi sembra onestamente assurdo giusto? va Orlando a giocare con Banchero il famoso Banchero che gli ricorda Bosch e quindi impazzisce oddio riveto Bosch in Banchero e voglio riprovare questa sensazione della Florida pazza con Wagner con Suggs Banchero io e Vendel Carter così dal nulla ecco Lebron non sarebbe comunque mai andato via da Los Angeles a prescindere da tutte le pare che Pelinka si è fatto inculcarne la testa che si è fatto anche inculare senza la C firmando prima Reddick come head coach giustamente il compagno di podcast e poi ovviamente con la ciliegina sulla torta della scelta del figlio per convincerlo a rimanere è una cosa che secondo me è lontana dalla realtà dei fatti perché ripeto secondo me Lebron non sarebbe comunque mai andato via però ha fatto leva lui e Rich Paul ovviamente Clark Sports hanno fatto leva su questa cosa con una dirigenza pessima una dirigenza veramente da senza palle senza senza un minimo d'orgoglio veramente e ovviamente hanno fatto leva per imporre la loro personalità maggiore il loro volere e quindi i Lakers ci sono tra virgolette cascati sia per quanto riguarda il coach sia per quanto riguarda Bronny questo è quanto signori chiedo scusa per il video lungo ma volevo spiegare bene tutto quello che secondo me gira attorno alla firma di Bronny e alla scelta di Bronny James fatemi sapere cosa ne pensate io vi ringrazio vi saluto ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti